Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale! Allora, oggi faremo un gioco con tantissime sfide miste. Visto che siamo dispari, manca Noemi, abbiamo diviso due squadre. Vai Bianca, presenta la tua squadra. Ok. Perfetto. Anna, lì in mezzo, non è esclusa, ma sarà un bonus. Ora vi spiego. Abbiamo preparato, con questa grandissima tecnologia, dei bigliettini. Su ogni bigliettino ci sarà scritta una sfida che dovrete affrontare, ma dovrete decidere chi della vostra squadra affronterà questa sfida prima di sapere quale sarà la sfida. Ok? Avrete per ogni squadra solo due possibilità di cambiare idea su chi farà la sfida. potete usare o un'altra della vostra squadra o Anna, che è a vostra disposizione. E vale per entrambe le squadre. Abbiamo scelto Anna perché è quella che finora ha vinto più sfide della ritmica. Ok? È chiaro? Ok. Parte, fate pari o dispari per chi pesca. Bianca e Martina. Vai, Marti. Decidete tra di voi chi schierare e decidete tra di voi, Marti, chi schierare. Quante? Quante volte possono chiamare, Laura? Solo due volte. Allora, squadra viola, Lucy, squadra verde, Mary. Ok, vai. Marti, avevi vinto, quindi vieni a pescare quello che dovranno fare. Se volete cambiarlo... Dove è possibile? Rovesciato avanti. Rovesciato avanti. Ve la sentite? Sì. Ok, ovviamente, ovviamente avremo il giudice speciale. Flo. Via. Dove la fate? Vai, dove volete? Volete venire sulla striscia? Parte Lucy? Vai. Ok. Vai Mary. No. Vabbè, si è visto male, ma si è visto. Ok, chi ha vinto? Giudice? Sì. Lucy perché aveva le gambe, tutte e due più dritte. Però anche Mary è stata molto brava. Ok, quindi Lucy punto alla squadra viola. Primo punto. Seconda sfida. Chi schieriamo? Vai, squadra viola, schiera. Chi schieri? Io. Ah, vai tu? Ok. E squadra verde e Marty. Oh, i due capi squadra. Spaccata chi tocca terra con il piede nel piolo più alto. Fate la spaccata. Chi mette il piede nel piolo più alto vince. Vai insieme. Vai Marty, insieme fatelo. C'è oggi? C'è oggi? Sul piolo che volete, più in alto riuscite ad andare toccando terra. Prova, vai. Fate le prove, eh. Potete salire anche piano piano. Piano piano. Anche se il tallone è su però, il tallone è sul piolo. Abbraccia fuori. Ok. Riesci il terzo, Marty? Ok, a occhio giudice, direi che è più giù Marty. Ok, Martina porta un punto alla squadra verde. Parità. Terza sfida. Chi schieriamo? E mi è bella. Via. Rieschio cerchio e rotolino. Ok. Rieschio cerchio e rotolino. Nessuna cambia? Volevo a ucciderla. In avanti. Ok. E vale. Vinto Amy. Vince Amy. Quindi, secondo punto alla squadra verde. Anne è ancora illesa. Chi schierate? Lucy e? Marty. Sì. Eh sì. Toglili quelli già pescati. Rotolamento del corpo sulla palla, schiena su. Schiena su. Ah, ok. Ok, c'è l'equilibrio con la schiena su dopo aver rotolato. Fate il rotolamento insieme. Corpo sulla palla, poi prendo la palla e prendo la palla. E chi resiste più su vince. Fate l'una alla volta e inizia... Marty. Marty. Vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Più su, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, più su, 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 giù i piedi, più su, e poi giù. Diciotto, diciannove, venti, ventuno, ventidue, ventitre, ventiquattro, venticinque, ventisei, ventisette, ventotto, ventinove, trenta, trentuno, trentadue, trentatré, trentaquattro, trentacinque, trentasei, trentasette, trentotto, trentanove, trentanove, trenta. 41 42 43 44 45 46 47 47 Scarica la schiena Oddio Mi stavo uccidendo Pronta? Via 1 2 3 Qua Caduta la palla? Peccato Vince in partito Brava Per queste prime 4 sfide Riuscite a vincere la squadra verde Che è un E a 100 pitlanti Spariamo la seconda parte L'altra parte al sud Scriveteci quali sono state le vostre sfide preferite E se avete idea consigliateci Ciao E al prossimo video Ciao 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 Grazie.